l'appuntamento con la salute di padre più tv e tutti i mercoledì in diretta alle 16 e 15 grazie a tutti carissimi fratelli e sorelle benvenuti a questo appuntamento quotidiano con il santo rosario la scuola di san pio da pietrelcina affidiamo alla beata vergine maria delle grazie e allo stesso san pio tutte le intenzioni per cui vogliamo pregare in comunione spirituale con tutti i coloro che si uniscono a noi attraverso tele radio padre pio oppure internet in tutto il mondo preghiamo innanzitutto per gli ammalati in particolare per quelli che si sono affidati ultimamente alle nostre preghiere i bambini gli anziani le persone sole le famiglie in difficoltà quelle che vivono dei gravi lutti le persone in cerca di un lavoro i carcerati i peccatori e tutti quelli che vivono lontano da dio e dalla chiesa i nostri benefattori e tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere preghiamo per il santo padre francesco il papa emerito benedetto il nostro arcivescovo franco tutti i vescovi e per tutta la chiesa per la nuova evangelizzazione per l'unità di tutti i cristiani preghiamo per la casa sollievo della sofferenza opera di padre pio e per i gruppi di preghiera sparsi in tutto il mondo per gli sposi che desiderano avere un figlio affinché per intercessione della madonna delle grazie di san pio vedano esaudite le loro accurate preghiere preghiamo ancora per le vocazioni e la santificazione dei sacerdoti religiosi per i missionari e le missioni per la conversione di tutti gli uomini e di tutti i popoli a dio per la pace e la giustizia nel mondo per i cristiani perseguitati e marginati in tanti paesi del mondo preghiamo inoltre per tutti coloro che sono in viaggio perché giungano sani e salvi alla loro destinazione preghiamo per gli agonizzanti e per i nostri cari defunti e preghiamo finalmente per le nostre intenzioni e necessità particolari e per quelle di tutti coloro che visitano il nostro santuario carissimi fratelli e sorelle con la preghiera del santo rosario vogliamo affidare alla beata vergine maria padre pio i nostri fratelli ammalati e qui quanti si sono raccomandati alle nostre preghiere o dio vieni a salvarmi signore vieni presto e mi aiuto glori al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli amè Gesù perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia Gesù Maria vi amo salvate anime Santa Maria delle grazie prega per noi San Pio da Pietrelcina prega per noi Ave 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 Maria Ave 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 Maria Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'Arcangelo Gabriele a Maria Vergine Alle parole dell'angelo Maria disse Eccomi sono la serva del Signore si compie in me la tua parola Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci inturra in tentazione ma liberaci dal male. Amen Ave Ave Maria piena di grazia il Signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori Ave 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 Maria piena di grazia il Signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori Ave Ave Maria piena di grazia il Signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori Ave Ave Maria piena di grazia il Signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori Ave Ave Maria piena di grazia il Signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Ave 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 Maria piena di grazia il Signore con te il Signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Ave 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 Maria piena di grazia il Signore con te 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 il Sign Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Gesù Maria, vi amo. Salvate, anime. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. È beata colei chi ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Padre nostro, che se nei cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Facci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli, nei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Gesù Maria, vi amo. Salvate le anime. Santa Maria delle grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù bambino dal grembo purissimo della Vergine Maria. Mentre si trovavano là, giunse per lei il tempo di partorire, e diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'albergo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci inturre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Gesù Maria, vi amo. Salvate anime. Nostra Signora delle grazie. Prega per noi. San Pio da Pietrelcina. Prega per noi. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Padre nostro, che se nei cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Facci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Gesù Maria, vi amo, salvate anime. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Nel quinto mistero della gioia, contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù bambino al Tempio. Figlio, perché hai fatto questo? Ecco, tuo Padre Dio, addolorati ti cercavamo. Ma egli rispose loro, perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occupare di quanto riguarda il Padre mio? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci inturre in tentazione, ma liberaci dal male. Amene. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amene. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amene. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amene. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amene. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amene. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amene. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amene. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amene. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amene. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amene. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Gesù, Gesù Maria, vi amo, salvate le anime. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo e spes nostra salve. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Et Iesum benedictum frutum entris tui, nobis posto gesilium ostente. O Clemens, O Pia, O Turgis, O Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre Celeste Dio, figlio Redentore del mondo Dio, Spirito Santo Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre sempre Vergine, Madre intemerata, Madre amabile, Madre amirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudentissima, Vergine Venerabile. Vergine degna di lode, Vergine potente contro il male, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio della giustizia, Sede della sapienza, Causa della nostra gioia, Dimora dello Spirito Santo, Paso degno di onore. Modello di vera pietà, Rosa mistica, Torre d'Avorio, Casa d'Oro, Arca della nuova alleanza, Porta del cielo, Stella del mattino, Salute degli infermi, Prega per noi Rifugio dei peccatori Prega per noi Consolatrice degli afflitti Prega per noi Aiuto dei cristiani Prega per noi Regina degli angeli Prega per noi Regina dei patriarchi Prega per noi Regina dei profeti Prega per noi Regina degli apostoli Prega per noi Regina dei martiri Prega per noi, regina dei confessori. Prega per noi, regina delle vergini. Prega per noi, regina di tutti i santi. Prega per noi, regina concepita senza il peccato originale. Prega per noi, regina assunta in cielo. Prega per noi, regina del santo rosario. Prega per noi, regina della famiglia. Prega per noi, regina della pace. Prega per noi, regina dell'ordine francescano. Prega per noi, agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi, oh Signore. Prega per noi, santa madre di Dio. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. O Dio, il Tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna, con la Sua vita, morte e resurrezione. A noi che con il santo rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per il Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non cinturre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a San Michele. San Michele, Arcangelo, difendici nella battaglia. Sì Tu il nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del diavolo. Che Dio eserciti il suo dominio su di Lui. Te ne preghiamo, supplichevoli. E Tu, Principe della milizia celeste, con la potenza divina ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali erano nel mondo per perdere le anime. Amen. Preghiera a San Pio da Pietrelcina. Padre Pio, Tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio e sei stato umile. Padre Pio, Tu sei passato tra noi nell'epoca delle ricchezze, sognate, giocate, adorate, e sei rimasto povero. Padre Pio, accanto a Te nessuno sentiva la voce e Tu parlavi a Dio. Vicino a Te nessuno vedeva la luce e Tu vedevi Dio. Padre Pio, mentre noi correvamo affannati, Tu restavi in ginocchio e vedevi l'amore di Dio inchiodato ad un legno, ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore per sempre. Padre Pio, aiutaci a piangere davanti alla croce, aiutaci a credere davanti all'amore, aiutaci a sentire la Messa come pianto di Dio, aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace, aiutaci ad essere cristiani con le ferite che versano sangue di carità fedele e silenziosa come le ferite di Dio. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito e benedica Dio Onipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Mira il tuo popolo e la Signora che è pien di giubilo oggi ti onora. che è pien di giubilo oggi ti onora. Anche io, festevole, corro ai tuoi piedi, O Santa Vergine prega per me Vi chiediamo la carità di avvicinarvi a San Pio in silenzio in questo clima di preghiera che c'è ora. Buona e santa notte a tutti. Grazie.